Qual è la situazione per quanto riguarda la formazione dei farmacisti in Liguria relativamente alla cannabis terapeutica? A oggi si sono conclusi i due step dei corsi organizzati da Alisa, proprio per questo argomento. E quindi diciamo che circa un 200 colleghi hanno la possibilità di preparare sia l'estrazione dell'olio, sia la cartina, tutte le preparazioni magistrali a base di cannabis. Il problema grosso non è tanto quello della nostra categoria quanto è quello della prescrivibilità, perché effettivamente mancano i medici prescrittori. Molto spesso a noi capita di dover istruire il medico stesso perché non sa come fare le ricette, non sa i dosaggi, non sa le tipologie delle varie cannabis prescrivibili e quindi per noi è una responsabilità anche abbastanza importante perché ci chiedono anche le patologie, eccetera. Noi più che tanto non possiamo fare perché è fuori dal nostro seminario. Quindi diciamo che abbiamo chiesto da più parti, anche a livello politico, sui media, sul nostro sito internet, di organizzare un corso esclusivo per medici perché effettivamente sono due tipologie diverse. Il medico ha bisogno di nozioni tecniche sulle patologie da trattare, per noi invece sulle preparazioni magistrate. Quindi ci vuole un corso apposto.